Non importa quanto faccia male, ogni ricordo è prezioso. Sta per ricordare tutto. Se ricorda quello che è successo, a soffrire sarà soprattutto lui. Ho saputo che sta presentando la sua candidatura per diventare primario in altri ospedali. E non starò ferma ad aspettarti. Non posso perderti. Mi dispiace, ho deciso. Doc, nelle tue mani. Terza stagione, questa sera, 21.30, Rai 1.